Un mercato direttore Mignemi che sicuramente vede un gubbio diverso rispetto a quello che avevamo lasciato due mesi e mezzo fa alla fine dell'estate, vede un gubbio nuovo, un gubbio che già all'esordia Cesena ha ben figurato e le chiedo subito come è stato lavorare in queste settimane alla sua prima esperienza qui in Rosso Blu Ma è stato un lavoro difficile però l'ho fatto con tanto entusiasmo mettendo tutto me stesso e ora la parola passa al campo, sicuramente un gubbio molto rinnovato ci siamo riusciti anche a tenerci qualche posticino libero nel caso in cui o in questa sessione con gli svincolati o a gennaio avremo bisogno di qualcuno che ci possa venire a dare una mano non era facile, non ci siamo riusciti in confronto alla tesoretà dove sono ingolfati di giocatori lo abbiamo fatto perché crediamo che la rossa a disposizione possa essere congrua per disputare un buon campionato Sono arrivati under di prospettiva come ad esempio Arena, come Spalluto, come Guidotti ma come lo stesso Aurelio Senior anche che avevano un passato importante in categorie superiori oppure giocavano in top club della categoria, Sarao, Migliorini, Cittadino, Bulevardi e Fantacci per fare qualche nome alla fine gli obiettivi che vi eravate prefissati per completare l'organico sono stati raggiunti o c'è qualche rimpianto? No, io credo che noi dobbiamo essere con la coscienza a posto perché tutto quello che potevamo fare riferito ai nostri parametri sul mercato lo abbiamo fatto questo grazie al Presidente, alla società tutta che ci ha messo a disposizione tutto quello che si poteva avere per fare un buon lavoro ora adesso come dicevo prima la parola passa al campo però non dimenticando comunque questa squadra ha un'età media abbastanza giovane l'abbiamo molto ringiovanita, si è vero abbiamo preso dei giovani di prospettiva che spero che comunque possano dare soddisfazioni al pubblico di Gubbio Per chiudere direttore non solo prestiti anche nei giovani ma anche diverse operazioni fatte prendendo elementi di proprietà era questo uno degli obiettivi da perseguire? Assolutamente sì, io credo che comunque una società come quella nostra debba pensare anche di poter crescere dei calciatori al loro interno che possano fare bene quindi non solo valorizzare il prodotto per gli altri ma comunque crescere direttamente di nostra proprietà dei ragazzi che comunque un giorno possano avere un avvenire anche in categorie superiori e quindi possano vedere Gubbio come un volano per la loro carriera in palcoscenici e in categorie anche più prestigiose questa è una cosa che credo che sia da mettere sotto la lente di ingradimento perché comunque non era facile nemmeno questo qualcuno si è già messo in evidenza a Cesena però detto questo adesso inizia il vero e proprio lavoro adesso inizia il campionato dopo la partita di Cesena ci aspetta una partita molto impegnativa con un avversario molto ostico che nell'ultimo anno praticamente non siamo riusciti mai a battere perché è una di quelle squadre di categoria come si dice in gergo e servirà il miglior Gubbio e servirà soprattutto l'apporto del nostro pubblico per cercare di portare a casa questa partita